salve a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video di SashaK191 e oggi parliamo delle sfide su clash royale a 2 quindi apriremo clash royale io ci stavo giocando già però ok adesso adesso invito un mio amico allora ok ok abbiamo trovato anche gli versari possiamo giocare ok buttiamo la strega e il mini pekka vediamo se mi ricarica il gigante no dai ci hanno già fatto grazie a tutti ragazzi abbiamo perso il vero comunque se non sapevate i miei vestiti affianco a me quindi sentite i due voci facciamo una battaglia normale si facciamo una battaglia normale guardate a me giro la doma mi sembra che è forte questo però lì voglio ci sono uguali forse lì ho fatto un gioco ma non ci sono io mi stessi pure ma non ci sono io mi stessi pure non ci sono io mi stessi pure si si madonna mia mettiamo qua questo perché l'hai bloccato allora adesso mi parico direttamente qui potrei aver vinto forse no 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 aspetta questo oh mio dio sono un compito quindi abbiamo appena iniziato a giocare a cruce royal dai ieri sera infatti ieri sera noi già ci rabevamo però ci rabevamo perché perdevamo sempre quindi era impossibile vincere nell'arena 8 quindi lo ricancellamo e oggi cioè ieri sera ce lo siamo scaricati di nuovo sperando che vinciamo e che superiamo l'arena 8 bravo bravo mi ripeto dai vai 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 mi ripeto è che la prima Ma non è materiale, se vuoi dire che c'è chi mette, ecco io Gironi che è la estrella Ma quello è il nostro conto, non è proprio la estrella, ma che fai? Ma l'ho vinto il vento, tanto... Che fai, lei è male Oddio E l'ha avvento anche un baule gigante Comunque se questa applicazione voi la volete scaricare E' lo stesso cercando da tanto tempo Questa applicazione si chiama Mobizen E dopo vi faccio vedere l'icona Anzi, si può benissimo vedere L'icona che ho aperto E ho chiuso di nuovo, c'è la M Questa sarebbe l'icona Oh mamma mia Ho perso già, si sa Non riesco a... Dai, nooo Le feste più potenti l'hanno messo Non le ho perso Ciao Ciao Perché? Che dispiacere Allora, cerchiamo di migliorare il mio mazzetto Allora, cosa possiamo togliere? Il bombardino che non serve per niente proprio Lo scambiamo per questi tre Il moschettiere Il moschettiere lo sa Lo sa per il bombardino Poi Quello è il bombarolo Bombarolo Il bombandino Poi Mettiamo Al posto di Io sto vincendo Delle frecce Potremmo mettere queste Ma le frecce servono? Ma non tanto Se ti buttano tipo No, è vero, si Allora Allora Allora, mettiamo al posto del moschettiere Il moschettiere Mettiamo 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 Questo Il goblin non c'era Ok Possiamo anche migliorare Ok Ragazzi Volevo solamente Avvisare Di questo Che io Qualche Meno spero Farò solamente video Con questa applicazione Mobile Perché Ho anche avuto Dei problemi Facendo dei video Di faccia E ho avuto Dei problemi Quindi Cominciano a fare Questi video Con questa applicazione Anche perché È molto comodo Ok Li vedo tre I messaggi che mi inviano Così Allora Ecco Cosa qua è il mio nome? Qua è il mio profilo Mi chiamo Sascha 2004 E questo qua È il mio soprannome Si 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 chiama Frank Fracchioli Il suo canale Invece il mio Flavio Ceramonte Anche se Il mio vero nome Non è quello Però Non voglio scriverlo Allora Facciamo questa Questa partita Allora Mettiamo questo Questo Dopo cosa faccio Vi faccio vedere Anche il mio canale Così potete essere sicuri Che è il mio canale L'unica Quella figa Che ho trovato In questo gioco Che è quando noi Ragioniamo tutti i personaggi Diventare Tutto un pasticcio Questo non mi piace Moltissimo Madonna mia Questo è proprio Che ho trovato Quando mi uccido Che ho trovato non da perché? perché sono valcyria? valcyria! ma perché? valcyria! valcyria! beh spero che io sono fucato di scuola no perchè c'è anche questa porta e poi vada solo là no 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 non posso perdere così al vuoto non posso perdere proprio guarda che è l'uscita con me due punti non è l'uscita ma è tutto minco vada ma è tutto minco vada 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 da il prinsip ok bravo prinsip bravo hai prinsipa? no il prinsipa è finché cavallo cavallo ok ok ragazzi vieni qua vedere il mio canale ok ok allora va bene sono iscritto perché l'ho aperto il mio canale è stato da 5 minuti fa il mio canale ahhh c'è il mio canale è stato da 5 ok il mio canale è stato da 5 ok vabbè andiamo da qua ok quindi la mia pagina l'avete vista questo è tutto al prossimo video ciao